Ma quello che oggi è un dialogo lungo il mare, luogo di arrivi e di partenze, dove la vita si ferma e soprattutto dove si riparte. Ed è la stessa esperienza che il risorto chiede di vivere a Pietro con la domanda Mi ami tu? Queste le parole del cardinale Emil Polcerig, nunzio apostolico in Italia che ha celebrato insieme a Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, la Santa Messa nella Basilica di San Nicola nella ricorrenza del 6 dicembre. Nella sua omilia il cardinale Cerig ha quindi parlato del mare, elemento simbolo della città di Bari, ma anche della vita stessa di San Nicola. Un invito all'accoglienza e quindi ancora una volta alla pace tra i popoli. Una città da dove si parte è una città che arriva, che è stata contaminata anche da tanti popoli che l'hanno attraversata. La nostra comunità è il frutto della contaminazione di tante persone che sono passate di qui e hanno plasmato anche questa città. È una città accogliente anche perché sono passate davvero tanti popoli. Il mare che ha portato qui tanti popoli porta ancora l'eco, i suoni di quelle culture, di quei popoli che sono arrivati fino a qui da noi. Al termine della celebrazione eucaristica la tradizionale donazione dei maritaggi e delle chiavi della città da parte del sindaco di Bari Antonio De Caro al vescovo di Mira. La consegna delle chiavi è un simbolo medievale, quando c'erano questi castelli, queste grandi mure, grandi portoni, la chiave serviva ad aprire il portone, veniva data a poche persone. Noi consegniamo la chiave perché ci affidiamo a San Nicola, affidiamo la nostra città, a San Nicola, ai suoi valori, ai suoi ideali. E quindi è un modo con la consegna della chiave di affidarsi a qualcuno, ci affidiamo al nostro santo patrone.